prego vieni e di solito non è così in disordine veramente allora comunque il bagno è al piano di sopra e invece il telefono è in fondo giri a sinistra poi vai sempre dritto volevo le darmi giro a sinistra e in fondo e dritto si la vuole una tazza di tè no caffè no no forse un succo di frutta forse no coca cola acqua abbiamo anche un buonissimo e disgustoso succo di cose tropicali no forse qualcosa da mangiare da mangiucchiare abbiamo delle albicocche col miele io non so perché le fanno perché poi stanno completamente di miele quindi allora perché uno mangia e comprerebbe le albicocche che stanno di me la vado direttamente a comprare miele senza albicocche però sono lì se vuole grazie lei dice sempre di no a tutto forse è meglio che io vada grazie del suo aiuto comunque colgo l'occasione per dirle che divino sì io so che non tornerà mai più nella mia libreria quel libro è orrendo però grazie è stato bello surreale ma bello ok salve salve ho dimenticato la borsa oh sì eccola grazie mi volevo scusare per il suo reale ma bello terribile lo so diciamo che forse avevi già toccato il fondo con le albicocche al miele facciamo che questa cosa non la saprà nessuno eh io lo dirò solo a me stessa davanti allo specchio giuro e non ci crederò mai mai ciao 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 ciao